Oltre ad essere un mio ex fidanzato, un abile tiktoker Però posso farti una critica? Ma perché continui con questi fidanzati e non fidanzati? Ma chi se ne frega di chi vuoi stare qui? Perché per lui è un titolo? Ho capito, ma le cose private si tengono private Se me mi chiedono se è stata con Eric Clapton perché è parte del mio passato, ci sta Ma te te l'ha chiesto qualcuno Ma chi sei che è stata con Eric Clapton? Perché sono il suo ex più bello, ho capito? Cioè basta, tu non devi raccontare la storia del... No, non è un gioco Perché Giulia l'ha chiesto se lui vuole che la gente che lo guardi sappia di questa vostra relazione Non mi porto un po' come un trofeo, ho capito? No, ma no, va bene, magari non te l'ha chiesto Polemica chiusa, voglio dire, i fatti vostri teneteveli se potete Io anche io dico le mie, però magari mi viene chiesto, è diverso Va bene, ecco